La Fondazione Mondo Digitale partecipa al progetto più uffici per l'integrazione che ha vinto il bando del Ministero dell'Interno per il FEI 2013 sul Capacity Building e insieme al Comune dell'Aquila che guida questa iniziativa, insieme a tutta una serie di piccoli comuni della provincia dell'Aquila, la comunità montana Sirentina, la comunità montana Montagna dell'Aquila, ha accolto la sfida di adeguare le capacità degli operatori e delle pubbliche amministrazioni locali ai bisogni formativi che evolvono e che cambiano del mondo immigrato. I cittadini immigrati sono i più soggetti ai cambiamenti dovuti alla crisi economica, al mercato al lavoro, alle opportunità lavorative che ci sono e non ci sono in un territorio che cambiano. La Fondazione Mondo Digitale ha messo a disposizione la sua esperienza oramai di diversi anni su cui...